Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro Al che vi parla la modalità Vortex sul Multi-DMV3 Molto fighe questi risk-in, molto figa questa pistola raggi ma perché non ce la date a noi su Zombie? Questa è un pochino la versione 2.0 di quando c'è stato l'evento di Natale in cui c'era appunto il Babbo Natale zombificato che andava in giro con il treno con tutti quanti gli zombie, che io ho pensato ok, ci sta su Warzone per l'evento e tutto quanto ma la mappa è esattamente identica a quella che c'è su Zombie quanto vi costa aggiungere il treno e di conseguenza questo Babbo Natale zombificato con ricompense, anche giusto un paio di drop, qualcosa di divertente in più giusto per un paio di settimane una piccola aggiunta che però fa capire che questo evento è un po' per tutti quanti c'erano ovviamente dei cambiamenti anche per Zombie però non lo so, mi sembra che tantissimi contenuti, specialmente questa season sarebbe stato fantastico vederli anche su Zombie come piccola aggiunta o anzi, in questo caso, vedendo i risk-in di queste tre mappe sono tantissimo a tema Zombie non così tanto che magari possa sembrare etero scuro o simili ma sono fatte veramente molto molto bene e sarebbero forse perfette per uno zombie around o anche stupidamente una specie di carneficina per dire, a quella che sarebbe Scrapyard o Sporyard se ricordo si chiama questa versione reschinnata a me da lontano sembrava un pochino l'etero scuro anche se in realtà tutto quello che vediamo in cielo non sono le menuse giganti violacee già viste su Cold War dentro l'etero scuro bensì sono tipo dei funghi giganti cioè non toglie che tantissime custom che abbiamo visto su Black Ops 3 assomigliano tipo al concetto di questi risk-in delle mappe e ripeto, sono fatti secondo me veramente molto molto bene e infatti giustamente in tanti stanno dicendo di non togliere assolutamente queste mappe reschinnate ma tenerle in rotazione perché sarebbe un pochino uno spreco aver fatto questo lavoro su queste tre mappe e poi farlo durare un paio di settimane per questo evento o questa season e poi via e spariscono per sempre che è una cosa che un pochino fanno su Cold ogni tanto c'è un evento, c'è una season o qualcosa ci sono delle aggiunte che però non sono permanenti è una cosa che sinceramente non ho mai capito perché più contenuti o cose in più da poter fare e giocare sono sicuramente sempre apprezzate e sinceramente per quanto riguarda queste mappe reschinnate che sono in tutto tre se ricordo Quarry, Scrapyard e Rust vederle appunto su Zombie anche giusto come piccolissime mappe in cui fare qualcosa di aggiuntivo come ha accennato prima, Carneficina sarebbe perfetto non capisco perché non lo stanno facendo alcuni stanno teorizzando che sì lo stanno facendo ma ci vuole un attimo di tempo quindi forse lo vedremo le season successive c'è una toglia che vedere questa tipologia di mappe o comunque questa grafica fatta in questo modo che sembra tantissimo a tema zombie prima su multiplayer fa davvero strano come ha accennato all'inizio video sembra un pochino quell'evento di Babbo Natale su Warzone che però invece su Zombie non c'è stato e non vorrei appunto che invece questi contenuti che vediamo su Zombie non arrivassero proprio mai appunto c'è tanta teoria nella community ma ufficialmente queste mappe sono soltanto per questa modalità Vortex se ricordo al momento c'è soltanto Tutti Contro Tutti che a me non fa impazzire gli spawn sono bruttissimi poi vabbè sul multi non ha chiesa fortissimo ma ho visto che dovrebbero essere anche presenti in 6v6 e appunto se le vediamo c'è dietro un lavoro secondo me non indifferente per quanto sia soltanto un reskin quindi cambi soltanto la versione grafica della mappa il resto è totalmente identico sono 3 mappe in più che mettiamo in rotazione in queste modalità qualcosa di diverso da poter giocare e metterci in mezzo in più la Ray Gun come competizione in Tutti Contro Tutti perché è un'arma veramente molto forte che è shotta tutti quanti sicuramente è molto a tema con queste mappe ma grida zombie da tutti i lati non lo so è una cosa che leggermente mi ha fatto triggerare perché dico cavolo c'è tantissimo potenziale per questo zombie ovviamente quello a larga scala ma in più ficcarci qualcosina del genere giusto per divertimento o aggiunta di contenuti sono sicuro che i player di zombie scoppierebbero di gioia e io sarei il primissimo questa modalità per dire si conclude il 17 gennaio come citato da Charlie Intel che ha mostrato anche tutte le immagini delle mappe e il loro layout e ripeto sono veramente bellissime da vedere ma durano circa due settimane è una cosa che veramente non capisco posso dire sicuramente che dal punto di vista di design e contenuti se le jammer games questa prima season ha fatto sicuramente tante aggiunte manca ancora la season reloaded che purtroppo penso offrirà pochissimo specialmente per quanto riguarda zombie ufficialmente sappiamo che ci sarà il nuovo signore della guerra a Docavi ma per il resto non mi sembra che avessero annunciato nient'altro per la season reloaded che come sempre non è un drop di contenuti grosso come il lancio season ma una cosa veramente minuscola considerando che manca un altro mese intero la stagione 2 io già di contenuti ho prosciugato tutto quanto e sì ho ne ho dato più che a sufficienza ma bisogna comunque stare attenti anche alle season successive specialmente se ogni volta vediamo contenuti del genere su altre modalità e noi player di zombie restiamo un pochino a secco o quantomeno dà fastidio vedere altri contenuti che per noi sarebbero perfetti se sono soltanto leggermente modificati e adattati alla nostra modalità come sempre sto pensando un attimo da player di zombie che vuole tutto per sé e quello è un attimo esagerato ma anche per dire il riciclo di contenuti che ha la base di zombie in questi casi potrebbe funzionare molto bene o quantomeno potrebbe accontentare tutti quanti ovvero creare skin di queste mappe e le dai su multiplayer e le utilizzi letteralmente identiche con un paio di modifiche anche per zombie anche perché ha tutti gli effetti nel codice del gioco a quanto pare c'è il sistema di mappe around che comunque avevano già ricreato i tempi di Vanguard e l'engine è molto simile per cui secondo me sarebbe abbastanza facile riportarle ma come al solito è la mia opinione e io non sono uno sviluppatore quindi ragazzi volete sapere un attimo le vostre opinioni vi invito comunque a provare questa modalità Vortex per vedere queste mappe credo che possa essere giocate in privata anche giusto per dare un'occhiata a tutto quanto il layout la grafica e simili ma fare un paio di partite comunque non è pessimo ripeto non mi fa assolutamente impazzire tutti contro tutti e gli spawn sono disgustosi ma quello è un altro discorso il video quindi di secondo code è qui spero come sempre che vi sia stato utile e vi sia piaciuto come sempre trovate in descrizione tutti quanti i miei social tra cui Instagram, Twitch e il canale Discord ci vediamo come sempre al prossimo video un abbraccio ala